Adoro la salvia. Fotografiamola. Scegliamo delle foglie belle e ampie con una texture ben visibile. Stendiamole bene sovrapponendole per creare un tappeto di foglie. Caballetto a 90 gradi per scattare in zenitale. Scegliamo in base ai nostri gusti se utilizzare una luce morbida diffusa oppure una luce dura. E questo è il mio risultato finale. Condividi la mia pillola e scrivimi nei commenti per saperne di più.